Buona giornata, spesso una domanda che accade è ma come sorgono questi pensieri, come sorgono e da dove attingi per poter comunicare questi pensieri? Nella realtà, in quello che si fa, in quello che vedo, quello che faccio, gli incontri, ma anche nella quotidianità più totale, ecco, in quello che è nel vivere, nel vivere oggi. Ieri eravamo appunto a che fare con muri, dovevamo vedere dei muri, cosa fare, in che modo utilizzarli, vederli, ed è proprio vero, mi è venuto in mente, da ogni muro può nascere una porta, da ogni muro può nascere una porta che mette in comunicazione quei due ambienti che erano divisi, che erano divisi, che erano separati. Anche noi, allora possiamo trovare una porta, creare una porta nel muri che forse abbiamo messo nei confronti di certe situazioni, di certe persone, di certi atteggiamenti. Certo, implica lavoro, implica fatica, ma implica anche gioia dopo nel saper comunicare e forse avere ambienti e spazi più ampi per poter vivere. Il Signore ti illumina e ti benedica. Buona giornata!